non è proprio così anche cos'è stiamo già iniziando con gli scongiuri con i riti perché poi bisogna vedere a i soldi che arrivano dalla tournée asiatica che non sono sicuramente superiori a quello che l'inter prenderebbe dall'europa league disputando la musica cosa sta roba manca il fumo no per favore fumo fumo per favore alla regia fate uscire il fumo manca soltanto quello sei uno sciamano sei mi date pioli che parla dell'approccio sbagliato pioli è in questione a napoli l'approccio la mette dentro cosa è cosa è cosa è cosa è un solo grido capitone nell'area capitone nell'area capitone nell'area capitone nell'area capitone nell'area Capitone della Rezza! Ve lo dico io che assist da parte di Mario Kamsik E tutti voi siete grandi, questo è Antonio Dabbari Ecco Fabrizio, tenendo per l'attenzione Napoli Ecco, ecco, e arriva il secondo capitone della Rezza Il secondo capitone della Rezza Capitone della Rezza Capitone della Rezza Vai! Vieni qua! Zampo, zampo! Zampo, zampo! Il capitone della Rezza Va bene il capitone, va bene il capitone Va bene il capitone Buoni, buoni, non fate cose strane Capitone! Il gol del 2-0 di Insigne, andiamo con l'onda Che servono... Attenzione Napolinaria E arriva il terzo capitone della rete di Lorenzo Il magnifico! Un solo grido! Un solo grido! Un solo grido! Capitone, capitone, capitone! Capitone nella rete Capitone nella rete Capitone danza Capitone danza Capitone nella rezza! Cioè, praticamente Insigne è partito dalla propria metà campo Ha avviato l'azione e l'ha terminata In una maniera straordinaria con la difesa della Lazio Ma è partita anche abbastanza distratta Andiamo con l'onda Non stasera Tutto...